Qua ci troviamo al ristorante Il Molino Blanco, Playa dell'America Tenerife. Bellissimo, è bellissimo. Te che figata. Guarda ci sono i pappagalli, come è bello qua dentro questo ristorante, wow, guarda che bello, la location è stupenda. Buongiorno. Allora. 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 bello è una stiegata a 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 allora ragazzi come vedete questa struttura questo ristorante è stato diciamo costruito su una vecchia come dire una vecchia fattoria dove facevano il latte perché c'è anche il mulino quindi il grano e via dicendo è molto molto bello cioè veramente è studiato alla perfezione studiato la perfezione i soffitti in canna come vedete è bellissima è una cosa straordinaria mi raccomando quando venite a Tenerife assolutamente ci dovete fare un giro qua dovete venire assolutamente a mangiare qua perché si mangia benissimo la location è stupenda è bellissima bello un passo meglio che non passi così il mulino è ancora in funzione si adesso sarà tutto illuminato stasera sarà completamente illuminata sarà super bello oltre a vederlo così sarà ancora ancora più bello ragazzi guardate questo prato verde con tutte queste piante di palma che bello ed è sempre vicino a casa di mia sorella è una bella location qua no si sono sistemati bene qua quindi anche io sono contento sono vicino vicino al mare piscina in casa tanto verde tante piante sono le piante di bananito nel giardino che ancora non si possono mangiare perché non sono ancora tanto mature certe sui certe no però dai tutto sommato c'è tutto che poi non si chiamano banane qua si chiamano platani è un tipo di banane piccolino ma molto molto buono che va bene per friggere il platano se non sbaglio perché mi se non sbaglio è vero che quel platano va tagliato a fette va fritto come vengono fuori io li ho mangiate sembra di mangiare le zucchine fritte infatti la prima volta che io li ho assaggiate il platano mi sembrava di mangiare le zucchine fritte quando è cotto? bello di elefanti belle palme strane chi è questo bomboccio? guarda che ti abbronzi lì sempre sotto il sole vieni giù da lì guardate che bello alberello guarda che belle palle grosse qua acqua ovunque che bello che è questo qua guarda che bello guarda che è ancora tutto spento perché è ancora presto e è ancora presto l'ho illuminato guarda che bello che hai guarda che bello che hai guarda che bello che bello che bello che bello che bello che bello che è andata Andiamo dentro, adesso è friscuro, però c'è la neve, quindi sta fresco. Alparello di Natale, bellissimo. Mira il mare, l'oceano da qua. Com'è che si chiama questo parco acquattico? Questo è il Siam Park. Alberghi come se non ci fossero domani ragazzi. Sono funghi, esatto, come funghi. Ma poi sono enormi, 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 proprio fuori misura, fuori standard. Grazie a tutti.